non ne avrà il tempo provvederemo prima ogni cosa ha suo tempo prima il nazareno e poi colui che lo ha tradito dice lentamente terribilmente elchìa sì e badate non una parola agli assenti già troppo hanno conosciuto del nostro pensiero non mi fido di Giuseppe e Nicodemo e poco degli altri dubiti di Gamaliele? egli si è astratto da noi da molti mesi senza un diretto ordine pontificale non prenderà parte alle nostre sedute dice che scrive la sua opera con l'aiuto del figlio ma parlo di Eleazzaro e Giovanni oh non ci hanno mai contraddetti dice pronto un sinedrista che ho visto altre volte con Giuseppe d'Arimatea ma del quale non ricordo il nome anzi ci hanno contraddetti troppo poco bisognerà sorvegliarli molte serpi hanno preso covo nel sinedrio io credo ma saranno snidate dice canania andando curvo e tremolante appoggiato al suo bastone a cercarsi un comodo posto su uno dei larghi e bassi sedili coperti di pesanti tappeti che sono lungo le pareti della sala e soddisfatto si stende e si addormenta presto la bocca aperta brutto nella sua vecchiezza cattiva lo osservano e Doras figlio di Doras dice egli ha la soddisfazione di vedere questo giorno mio padre lo sognò ma non l'ebbe ma porterò nel cuore il suo spirito perché sia presente nel giorno della vendetta sul Nazareno e abbia la sua gioia ricordatevi che dovremo a turno e turno numeroso essere costantemente nel tempio lo saremo dovremo ordinare che a qualunque ora Giuda di Simone sia introdotto dal sommo sacerdote lo faremo ed ora prepariamoci il cuore al compito finale è già pronto è già pronto con astuzia con astuzia con astuzia con finezza con finezza per calmare ogni sospetto per sedurre ogni cuore qualunque cosa dica o faccia nessuna nessuna reazione ci vendicheremo di tutto in una volta sola così faremo e sarà feroce vendetta completa tremenda e si siedono cercando riposo in attesa dell'alba grazie a tutti grazie a tutti